buongiorno a tutti allora giubbino del gigione che appena rientrato a mezzanotte e mezza mezzanotte 29 a essere precisi seratona ragazzi seratona da paura io ieri sera perché bisogna dire ieri sera ormai è domenica una domenica 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 ho rischiato l'infarto mi sentivo spalletti che faceva non la guardo la telecamera non la guardo la teleca non posso guardare la telecamera era inteso qualcos'altro non era la telecamera che non potevo guardare perché praticamente eravamo nel nostro solito angolino con gli anziani e stavolta posso dirlo con gli anziani perché erano più più vecchi di più diversamente giovani di me quindi avevamo qualche anno in più e sentirgli dire a se sapevo che c'era sto casino stavo a casa ho capito che non sono anziano e non sono noi andiamo apposta all'happy bar perché ci sia quel casino lì almeno guardare non toccare ma almeno guardare gli occhi sono fatti per guardare il guaio che ti giravi vedi la tipa a 90 con la minigonna con un culo che parla madonna benedetta dell'incolonaccia stasera c'era il fighetto ragazzi non ce la potevo fare io mi giravo stavo vedendo la partita che era di merda perché torino fiorentina è stata una partita di merda e che non bene voglia il catto ma è stata veramente una partita di merda con un allenatore della fiorentina che ha un cagone sono 11 contro 10 che cazzo di cambi fai mi toglie quello lì per mettere dentro mandragora ma gioca col 4 3 1 2 metti beltran dietro a due punte cerca di andare la vino mette in zola quando mancano cinque minuti alla fine vabbè lasciamo perdere ne parleremo poi di calcio ne parleremo dopo dobbiamo parlare di topone perché veramente poi c'era la unziker ragazzi c'era la la unziker da giovane era qualcosa era una bambola non era una ragazza era una bambola perfetta poteva quasi compete quasi è perché venere è irraggiungibile ma veramente i boccoli bionda coi boccolotti un culo che parla madonna beh meglio che non ci penso perché sennò mi viene un coccolone poi c'era quell'altra probabilmente pensava di essere a giudio non a marzo perché veramente corpettino schiena completamente scoperta spacco laterale che si vede a mezza tetta meno male che è stata a distanza perché sennò veramente per il gigione gli parte lo sciopone poi mi viene fame anche se avevo mangiato poi vedrete cosa ho mangiato questa sera alle 19 30 alle 20 metterò il video della pappa che ha mangiato il gigione all'arcobaleno e quindi non ce l'ha non ce l'ha poi normale che si spera entro un mese vado vado a lavorare all'arcobaleno è vero che anche lì se ci sono a parte che ci sarà venere quindi già se c'è venere fame a raffica poi si arriva la la cameriera che mi ha fatto vedere il bond il nostro chef nostro candavacciolo poi se magari ci sono le due che c'erano l'anno scorso e quindi lo sciopone mi arriva lo stesso però sono preparato quando di ce n'è lì una trentina una quarantina eccetera che tutti i giri e loro sono al tavolo di fianco a te a un metro esagerando e si piegano a 90 perché devono prendere la borsa quello quell'altro e tu c'è quella parte anatomica a 40 centimetri e io ero lì che facevo al mio amico non la guardo la telecamera non la guardo la telecamera guardiamola perché sennò veramente lo sciopone ragazzi stasera il top e mi sa che la settimana prossima sarà ancora peggio perché ha chiuso la sala quindi praticamente adesso a domaso ci sono due locali uno è leppi bar e poi c'è il flambè che però apre verso le 23 23 30 cioè apre prima ma andare prima delle 23 alfabe non ci va nessuno quindi praticamente tutti sa e tutti a leppi fare l'aperitivo fare la mangiata eccetera poi magari se li bididiscono perché c'è ivo dj fino alle 6 resta lì fino a mezzanotte e mezzanotte e mezza poi si trasferiscono tutti giù al flambè quindi per cui settimana prossima mi preparo di nuovamente al peggio perché ci sarà nuovamente la vagonata della topa che poi che tu sia topa mi fa molto piacere ma se ti vesti come se fossimo a giugno a me viene uno sciopone io non resisto quando vedo sono come ruffini quando vedo un figone a parte che mi viene fame poi rischio il puff sciopone e stasera veramente madonna benedetta c'era la topame e io divento matto io divento matto perché poi dopo ti rendi conto che come dicevano i di maturi no sono una ragazza di vent'anni ti può far capire che tu non ce li hai più io lo so benissimo non c'ho bisogno che me lo dica lei però ragazzi miei per mia fortuna che che ne vogliano a me piace la topa le topone maggiorenni la regola è quella sotto i 18 sono protette dalla legge sopra i 50 dalla natura il guaio che io dovrei guardare quelle che sono protette dalla natura non c'entriamo un cazzo quello il problema o la mentalità troppo come ho detto su facebook io bisogna una che sia più intelligente di me più scema di me non c'è anche perché trovare una donna intelligente ti rompe il cazzo e c'è poco da fare quindi e lì vivi 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 che cosa mi piace fare i video su youtube e non li devi fare perché c'è né perché c'è un'età che c'è scritto che i video su youtube sono vietati ai maggiori di x no è un hobby mi piace mi diverto eccetera eccetera non vedo perché non devo fare no perché c'è una certa età e allora cazzo vuol dire quindi ncs non ci siamo infatti quella frase bellissima che mi fece il pizzaiolo l'anno scorso alla della favola il figlio del titolare che proprio mi disse mi ha ricordato il buon pintus no che gli diceva no ma lei ha l'età di mio padre quindi non riesco a darle del tu e invece lui mi disse non ci credo che tu hai l'età di mio padre non è possibile mai complimento poteva essere più bello e va bene d'altronde ragazzi l'età è come l'estate non stato d'animo ci sono persone che a vent'anni sono già vecchie e ci sono persone che a 70 anni sono più giovani dei ventenni anche se ahimè il fisico è quello che è come diceva totò è bruttissimo quando tu ti senti giovane ti guardi allo specchio ti rendi conto di essere un vecchio bruttissimo io ripeto affinché mi regge la pompa sto bene da di molto bene poi quando non reggerà più farò svulaz e ad comunque ragazzoli adesso andiamo a vedere l'outfit perché stasera erano vestito da becchino a parte il giubbino bianco come sempre libidine levis aspettate che avvicino più possibile penso si veda il mio levis bianco che sono affezionato ormai uso uso questo non sto a mettere il mongomeri con le non so se il giubbotto col cappuccio eccetera perché questo è comodissimo e caldissimo e tanto entro un mese poi ho finito di uscire eccetera se ne riparlerà poi a metà ottobre poi ho messo lo smoking smoking visto è smoking nero il gillerino camicia nera e il mio solito jeans con cintura quindi sono ero proprio modello solo lo iettatore ma è quello smoking fa 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 libidine comunque in ogni caso dite l'outfit ve l'ho fatto vedere le tope purtroppo non potevo mettermi a fare i filmati con le tope perché non mi sembra il caso poi magari qualcuno veniva a rompere i testi poi per di più c'è la musica tutta sera quindi automaticamente se avessi messo il video su youtube dicendo ragazzi guardate libidine stasera eccetera eccetera c'era youtube che rompeva le balle in questioni di copyright c'è la musica di sottofondo non puoi metterlo siccome sono imbranato e non so come togliere la music dalla da un video perché logicamente quelli che lo sanno i miei amici che lo sanno che mi dico gigi dovresti elaborare di più i video dovresti fare così dove se mi date una mano me lo spiegare non abbiamo tempo non rompetevi i coglioni perché fate i fenomeni siete bravi ne sapete più di me sprecate un'ora perché io sono uno che se le cose bene spiegate bene segno e poi dopo sono sono bravo a farlo da solo ma siccome non avete voglia di sprecare neanche un'ora utile che venite a rompermi i coglioni a fare i fenomeni ehi ma fai poche visualizzazioni perché il video è solo ci sei solo tu non metti cosa appunto primo non metto foto non metto niente perché ogni due per tre youtube rompe i coglioni adesso abbiamo tolto il video quello lì in cui parlavo di di kennedy che diceva dei vaccini del bon bill gates perché offende il copyright no perché sono andato ho messo la parola vaccini che non si può usare adesso ci abbiamo anche il il libricino con le parole che non si possono dire virile non si può dire troppo maschilista offendi quelli che sono poco maschilisti quelli che ci piacciono quelli del loro stesso sesso si offendono dio virile cosa dici come ti permetti madonna benedetta c'è una volta c'era quella bella canzone benvenuti a sti bibibip così belli e capoccioni e come sei un po bibib e dimmi un po che c'hai da di continua continua non sono bibib non mi chiamo bibib sono commiserio e ti faccio un culo così mitica fra tra l'altro quella quella scena lì è stata scelta come scena più divertente dei film appunto di sole whisky e sei in pole position che è un gruppo che seguo hanno scelto appunto questa frase era la sfida tra questa qua e quella di liberati armando lo schianta tope di jerry cala quando erano in vacanza in america c'erano quelle due lì che praticamente anche lino baffi ha detto ai no se non l'avrei a saperlo non l'avrei ma vai a cagare avete rotto i coglioni con sto buonismo del kaiser consta una volta si rideva si scherzava mi fanno una battuta perché sono pelato non è che mi offendo che cazzo me ne frega ci sono pelato ci si ride so una volta si imparava a ridere dei propri difetti adesso se qualcuno si permette di farlo è body shaming quante volte mi hanno detto gg sei brutto e cosa faccio dall'abbazza permessa di dirmi gg sei brutto ti ammazzo perché a questo punto siamo siamo a questo livello tra un po leggerò sul giornale ammazza una persona perché gli ha detto che è brutto il giudice lo assolve perché aveva body shaming e quindi ha fatto ha fatto bene perché siamo a questo livello oramai d'altronde quando quando scrivono che sputare addosso ai poliziotti è giusto perché se lo sono meritato ragazzi miei siamo all'apoteosi se io fossi tornato a casa che un carabiniere mi ha manganellato mio padre mi dava arresto altro che andare a denunciare il carabiniere prendevo arresto avevo mezza fascia rovinata mio padre mi rovinava l'altra mezza perché una roba del genere da me non se la sarebbe mai aspettata che andavo a rompere i coglioni al carabiniere che questo mi manganellava adesso no non si può loro possono sputarli addosso ma se quello ti tira una manganellata giustamente non si può e la madre che ha detto come si è permesso non dormirà di notte vedete la differenza e per quello che la società andrà sempre più in valora nei nostri tempi andavi a casa al maestro mi ha tirato uno schiaffone perché gli ho risposto male partiva l'altro schiaffone dall'altra parte da mio padre adesso il maestro mi ha tirato uno schiaffone vanno là e gli fanno fare sei mesi di cannuccia di gazzosa ad andar bene se non lo rendono lo fanno diventare come pierangelo bertoli cambiato tutto cambiato tutto è per quello non si insegna più educazione civica non si insegna più il rispetto si insegna solo a trattarli come se fossero dei piccoli marchesini del grillo a cui loro sono loro e gli altri non sono un cazzo e questi sono i risultati meno male che non tutti i genitori sono così meno male però vabbè lasciamo perdere come al solito vedete il gigione parte da una serata a libidine piena di topa eccetera eccetera e va poi a parlare a parare va a parare su altre cose e ma d'altronde ogni tanto c'ho il fomento e succede cosa volete farci sono stato educato in maniera completamente diversa e sono contento di essere stato educato in maniera completamente diversa da come li educano adesso quando i miei mi dicevano ricordati che sei un De Stefani non intendevano dire ricordati che tu sei tu e gli altri sono schifo era tu sei tu e quindi devi essere rispettoso educato preciso nessuno deve dire beh contro di te perché hai fatto qualcosa di brutto che cosa eccetera 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 non nel senso se gli altri non sono nulla proprio il contrario va bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso non lo so che che faccio perché mi sono perso le prove libere le prove le qualifiche la gara era ieri di formula 1 neanche alla domenica al sabato ma si può il ramadan inizia da una settimana sai che c'è il ramadan la sposti anticipi un'altra gara e quella la fai dopo la dopo il periodo ramadan no hanno dovuto rivoluzionare tutta la formula 1 facendolo fare il gran premio al sabato e le qualifiche al venerdì giustamente ci mancherebbe perché vedete a differenza il ramadan va rispettato in italia invece il cattolicesimo non va rispettato bisogna rispettare quello che dicono loro che sono ospiti anche lì noi non ce l'ho col ci mancherebbe la religione di una va in un paese ci sono determinate regole che nel tuo paese non ci sono ma lì ci sono non le rispetti se no non va in quel paese giustamente invece in italia ci sono delle regole che vanno rispettate però nel tuo paese non sono rispettate tu fai come cazzo ti pare anche se sei nuovo siamo dei coglioni scusate il francesismo anzi sono dei coglioni perché io non concentrano non le faccio io le regole sono loro che chi ci governa eccetera eccetera vabbè lasciamo lasciamo perdere perché sennò mi fomento ancora di più tu vai in america ti chiedono cosa viene a fare vuole fare terrorismo se uno vuole fare terrorismo te lo scrive sicuramente agli civili voglio fare degli attentati ai mcdonald che domande fanno che cosa viene a fare da me devo stare qua una settimana voglio girare un mese volevo girare un po conoscere gli stati uniti così superficialmente cazzo devo fare se uno viene lì in vacanza cazzo deve quanto si è portato a dietro perché dobbiamo sapere quanti soldi perché se no poi si resta senza soldi come si fa poi magari potrebbe delinquere sono americani ragazzi va bene lasciamo sorvoliamo sorvoliamo no bene raccontano queste cose non le so perché io sto bene al mio paesello bello tranquillo rilassato faccio le mie cose tanto gli viaggetti che dovevo fare li ho fatti quando ero giovane ho girato mezza italia coi miei due coglioni perché ragazzi via io ve lo dico sinceramente quando sento quelli andiamo in grecia e giriamo la grecia già lì mi dico una cosa del genere con date divertitevi per me il divertimento è villaggio turistico animazione e poi posso stare lì anche tre mesi e faccio io l'animatore al posto degli animatori perché quello il divertimento è topa possibilmente che magari piace l'anziano tra virgolette quelle quando io sento qualcuna che dice mi piacciono quelli maturi quegli adulti quelli che libidine e poi la vedi insieme al suo coetaneo giudini oppure quando c'erano le ragazze di non era rai che gli chiedevano ma come lo forresti il tuo ragazzo bello c'è no l'importante che mi voglia bene eccetera eccetera poi li vede le vedevi sempre assieme a dei figoni da paura e anche messi bene economicamente come famiglia tutto quanto quindi parole 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 vabbè io spero sempre nella favola della bella e la bestia so principe so bestia magari chi lo sa boh vedremo ragazzoni vedremo per ora vi diletto qua con i miei video le mie serate al happy bar le mie mangiattine di pizza all'arcobaleno tra un po alla favola e poi vi ragguaglierò quando inizierò a lavorare alla favola naturalmente ve lo dico poi vedrete anche dei pranzettini diversi dei commenti diversi sui pranzi perché naturalmente ci sarà il nuovo personale tutto quanto a meno che non venga confermato quello dell'anno scorso che a me lo dispiacerebbe perché comunque renzi e minerva sono tanta roba poi c'è la dea teti vedere ci sarà sicuramente perché lei è il fulcro poi ci sarà giunone e giove che bisticceranno di tanto poi abbiamo il dio dei fornelli il nostro chef spero così bene o maggio i miei pranzettini da libidine però credo che ci vorranno almeno tre settimane minimo poi boh vedremo ragazzoni io vi saluto vi ringrazio adesso non so non so che vabbè tanto in tre video ce li avete già per la giornata di domenica siamo già posto perché tre video già programmati questo l'ho messo in mezzo così ve lo vedrete e poi naturalmente la notte ancora giovane come direbbe qualcuno quindi magari mi vede un po di sci così concludo le ultime due gare dello sci che devo finire per quanto riguarda i mondiali di curse bell del 2023 così poi nella prossima settimana recuperiamo la formula 1 con la gara e poi magari farò una cosa veloce per quanto riguarda le qualifiche che magari vi interessano fino a un certo punto e poi naturalmente andremo avanti champions quindi schedine del gigione eccetera e gare di sci come se non ci fosse un domani perché vanno recuperate il più possibile io vorrei riuscire ad arrivare a fine mese e aver fatto almeno la metà della stagione partita quest'anno chiudere la stagione dello scorso anno e naturalmente iniziare il più possibile a recuperare quella di 2023 2024 poi naturalmente ci sarà la presentazione della moto gp settimana perché ragazzi miei settimana prossima inizia anche la moto gp giustamente per far impazzire il gigione sono fatti apposta però io sono come eurostor non ci si ferma mai sono di annoio e quindi come canta la giovanotti e l'uva noio no che dopo annoio l'uva noio e no che dopo annoio l'uva noio no che dopo annoio l'uva noio no che dopo annoio no che dopo annoio quindi ti che mi piace stare a fare video su youtube eccetera continuerà a farmi sbattendo bene altamente i testi se li vedo a in 10 20 in 50 in 100 in 100.000 invece magari e ci vediamo alla prossima che mi sono dilungato troppo come al solito ma io inizio a parlare poi comincia ad agganciare un argomento con un altro poi vado su quell'altro eccetera eccetera non mi fermo più ma spezzali diceva quando un microfono non ve lo potete togliere ma io quando sono in video non gliela faccio non gliela faccio comincia e poi non mi fermo più e divento prolisso quindi odd evitarlo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao